Adesso vi presento il nuovo intervento di Enzo Di Bella che parla delle conversioni fotovoltaiche applicate al settore automotive. Enzo Di Bella, che lo invito, è fondatore di Futuro Solare Onlus che da diversi anni si occupa di tecnologie solari, da più di vent'anni si occupa di tecnologie solari applicate ai sistemi di veicoli e coordina team di persone e risorse che si occupano di questo microfono. Oltretutto tra i successi c'è della fondazione, vogliamo ricordare ad esempio la partecipazione all'European Solar Challenge con i progetti Archimede fino ad arrivare alla World Solar Challenge con l'ultimo progetto. Quello che vedremo oggi è l'integrazione della tecnologia dei pannelli solari e all'integrazione dell'automotive e soprattutto anche come l'aspetto open source ha contribuito su questa tecnologia. Assolutamente. Allora, intanto tutto ringrazio il presidente per l'invito. Mi presento, sono Enzo Di Bella, sono il team principal di Futuro Solare, fondatore e noi sostanzialmente nasciamo nel 2006, un gruppo di appassionati, di studenti e di professori di scuola media superiore abbiamo creduto di poter intervenire su queste attività di ricerca con una fondazione assolutamente no profit. La nostra mission è quella appunto di promuovere la sostenibilità ma anche di stimolare la crescita degli studenti delle scuole media superiori e universitari, offrendo loro l'opportunità di partecipare attivamente a questi progetti. Ci autofinanziamo e lavoriamo in un ambiente che ci è stato donato dal comune di Siracusa. Questi sono stati negli anni, a partire dal 2008, le prime ricerche fatte appunto per poter integrare su veicoli prima tricicli e poi automobili il fotovoltaico come fonte di energia. Siamo partiti dal 2008 con il primo prototipo di bicicletta, sono tutte appedate assistite, tutti e tre, ma con integrazione di sempre più potenza cambiando le tecnologie fotovoltaiche. Questo non per permettere ai veicoli di essere autonomi ma di integrare l'energia delle batterie. Poi siamo passati a una seconda fase nel 2016, abbiamo alzato un po' il tiro e siamo passati alle autovetture, autovetture di cui esiste un tessuto mondiale incredibile. Noi abbiamo scoperto che sono oltre 120 i team e le università nel mondo che partecipano e costruiscono questi veicoli. E qua abbiamo appunto realizzato la prima vettura nel 2016 che è Archimede 1.0, poi la sua evoluzione migliorata in tecnologia e poi fino al 2022 abbiamo realizzato Archimede 2.0. Queste sono le nostre partecipazioni appunto come diceva, campionati europei a Zolder nel 2016, nel 2018 nuovamente e poi l'avventura australiana nel 2023 con Archimede 2.0. Siamo stati molto attivi soprattutto perché noi integriamo tutte queste attività soprattutto con le scuole e con le università e quindi abbiamo una collaborazione con la facoltà di E-Mobili dell'Università di Palermo, una grossissima collaborazione con l'Istituto Fermi di Siracusa che è un istituto tecnico industriale da quale attingiamo tutti gli studenti per inserirli in questi progetti. Abbiamo la fortuna che in questo istituto tecnico abbiamo quattro specializzazioni, chimica, meccanica, elettronica e informatica. Quindi facciamo collaborare questi ragazzi insieme ai tutor e ai professori all'interno di queste attività di ricerca. Passiamo al progetto vero e proprio dell'auto solare appunto quello di cui voglio parlare. Qua abbiamo parlato di megawatt, di potenze importanti. Noi abbiamo pochissima potenza, noi parliamo di watt e per noi un watt fa la differenza per cui andiamo a raccogliere veramente tutto quello che riusciamo a tenere dal pannello fotovoltaico che è montato su queste autovetture che è di circa 4 metri quadri e quindi tiriamo fuori circa 1200 watt. Però cerchiamo appunto con questa attività di ottimizzare tutti i sistemi. Quali sono i principali problemi di un'auto solare? Soprattutto i pannelli perché in questo momento la conversione fotovoltaica non è a valori ottimali in base alla superficie. L'autonomia e l'accumulo è un altro grande problema perché dobbiamo utilizzare batterie per poter accumulare quando non abbiamo l'energia solare e soprattutto il peso e la dinamica giocano un ruolo fondamentale perché queste vetture debbono essere sostanzialmente leggere e anche molto robuste. Quindi è soprattutto poi una cosa più importante che è il costo dei materiali perché per avere molta tecnologia dobbiamo spingerci in là con materiali, compositi, carbonio, fibre e anche là abbiamo fatto un'importante ricerca, i ragazzi hanno fatto un'importante ricerca. Voglio premettere che tutto quello che vedrete non è finalizzato a uno scopo commerciale ma esclusivamente ha lo scopo finale di far crescere studenti e ragazzi in progetti che poi li possono portare ad avere un know-how e delle competenze da spendere nel mondo del lavoro. Cominciamo come funziona un'auto solare, ecco così lo faccio molto velocemente. Noi utilizziamo cellulare al silicio esclusivamente perché ci viene imposto da questi regolamenti di gara. Ci sono delle tecnologie che poi vedremo in avanti, tellurio di galli o tripla aggiunzione, cose molto complesse che possiamo arrivare fino al 40% di rendimento ma per obbligo non dobbiamo utilizzare silicio. Qui in questo momento la tecnologia più promettente, quella di Maxion ci offre quasi un 25% di rendimento e insieme alla Solbian che è un'azienda italiana di Torino abbiamo realizzato e loro realizzano questi pannelli che hanno la possibilità di essere piegati e sono flessibili e curvabili. All'interno vengono incapsulati in un polimero a memoria di forma che permette a loro una flessibilità di quasi il 20% per metro di curvatura. Quindi questa energia raccolta dai pannelli noi la andiamo a connettere direttamente agli MPPT che sono i Maximum Power Point Tracker che è una tecnologia che ottimizza il rendimento di queste celle fotovoltaiche e anche questa è gestita poi vedremo avanti da un software che permetterà appunto l'immagazzinamento dell'energia prodotto dai pannelli all'interno delle batterie. Abbiamo due motori, normalissimi motori comunque BLDC quindi a magneti permanenti ad alta efficienza e la batteria di accumulo, quest'anno il regolamento è cambiato, ci hanno obbligato ad avere 55 kJ massimo a prescindere dalla chimica. Quindi ci stiamo guardando un buon intorno su cosa vedere su nuove tecnologie, oltre al litio ovviamente, litio ferrofosfato stiamo anche vagliando l'opportunità di andare a vedere le nuove batterie sodio-ioni che promettono molto bene. Tutto questo accumulato in fase di velocemente di accelerazione del veicolo viene portato agli inverter che provvedono a convertire l'energia continua delle batterie in corrente alternata di fase per permettere ai motori di appunto muovere il veicolo. Una fase molto importante è quella del BMS che gestisce completamente l'intero controllo della batteria perché dobbiamo monitorare costantemente sia tensioni minime e tensioni massime, temperature minime e temperature massime delle celle per permettere di lavorare sempre all'intento di un range di sicurezza. Per fare tutto ciò ovviamente a questo punto entra in gioco quella che è la parte informatica ed elettronica e qua abbiamo avuto un grossissimo aiuto da parte di ST Microelectronics perché ci ha fornito delle board nate proprio per l'automotive sono basate sui processori Corus. I processori Corus sono dei processori nati per l'automotive, all'interno hanno tre core, due di funzione e uno di controllo. Queste board sono utilizzate dai nostri studenti per permettere il controllo completo della vettura. infatti facciamo controllo di sistemi ausiliari, il controllo del motore viene fatto dall'MCU, la gestione energetica di tutti i sistemi vengono caricati direttamente dal controllo per avere il massimo rendimento energetico, il monitoraggio e la diagnostica, temperatura, velocità, stato delle batterie, tutto viene praticamente utilizzato in unica MCU. L'unica differenza che abbiamo sulle dashboard, quindi sull'interfaccia utente, viene utilizzato, utilizzeremo un sistema di una piattaforma QT che permette di avere questa interfaccia utente e utilizzeremo poi anche per derivare i dati della telemetria ed è basata su un Raspberry e una data di Linux molto leggera perché deve essere appunto molto leggera. Quali linguaggi utilizziamo? Sostanzialmente dico quello che ha detto il mio precedente assessore, C e C++ sono quelli che consumano di meno e cerchiamo di essere più vicini al linguaggio del processore. Però siccome parliamo anche di ragazzi di 16 anni, delle scuole medie superiori, affrontare direttamente un linguaggio con C ci viene veramente pesante. Quindi che cosa facciamo? Utilizziamo il Python per prototipazione. Quindi gli diamo la possibilità di intervenire prima in Python con delle piccole board anche con Arduino, con altri sistemi molto più leggeri e poi trasportare questo insieme ai tutor e agli studenti un po' più grandi alle piattaforme quelle che ci troveremo nella macchina. Usiamo anche MATLAB Simulink ma soprattutto lo usano gli studenti universitari per realizzare le simulazioni per esempio per le femme magnetiche dei motori, per utilizzare le femme che utilizziamo per il calcolo meccanico delle sospensioni, dei bracci e tutto il resto. Appunto come dicevo l'hardware che utilizziamo sono gli Arduino, il Raspberry Pi soprattutto per la gestione dei dadi della dashboard e il corso SP558 per la gestione praticamente di tutta la vettura. L'architettura software è quella che noi prediligiamo e abbiamo come dire preso una linea guida con i professori della scuola, con professore, è quella del KISS, del Keep it Simple Stupid. Cioè tutto deve essere semplice, chiaro, veloce e non deve avere fronzoni inutili e soprattutto roba ridondante che serve a poco, soprattutto in una vettura del genere. Deve essere anche molto efficiente ovviamente e dobbiamo avere una possibilità di ridondanza perché, poi vi spiegherò, queste gare si svolgono in ambienti molto critici come il deserto australiano o bisogna attraversare cost to cost gli Stati Uniti. O l'ultima che si è svolta, la Sasol, si va da Johannesburg fino a Città del Capo attraverso il deserto. Quindi ambienti abbastanza ostili dove si mettono a dura prova le componenti della vettura. L'approccio appunto didattico è questo, quindi abbiamo detto apprendimento pratico per i ragazzi, condivisione e collaborazione. Ecco qua lo sharing perché noi utilizziamo piattaforme come G-Tab per caricare i codici, quindi abbiamo una community che ci permette fra tutti i ragazzi di poter scambiare librerie oppure informazioni o dati. Ecco perché il progetto nasce aperto per tutti. è una piccola community, ma cercheremo di ampliarla il più possibile. Abbiamo avuto anche molti aiuti esterni sotto questo punto di vista, ma lo scopo principale della didattica è questo. Studenti che adesso sono ingegneri, che lavorano nelle aziende, hanno con noi un piccolo obbligo, quello di insegnare ai più piccoli che arrivano quello che loro hanno maturato sia nelle loro aziende, ma in futuro solare. Cosa utilizziamo? Perché il più grosso problema è stato la comunicazione dentro la macchina. A questo punto ci siamo guardati un po' in giro, abbiamo, qua lo dico, abbiamo avuto nella prima vettura una serie di problemi perché praticamente questa macchina parlava circa sette protocolli di comunicazione differenti e quindi l'architettura del codice era così complessa per poter far parlare un RS232 con un 488, con un CAN o con un i25 a quel punto ci siamo guardati e ci siamo fatti una domanda. Cosa usa l'automotive vero? Usa il CAN bus. Per cui andiamo a lavorare con qualcosa che poi magari vuoi andare a trovare nelle aziende in cui andiamo a lavorare. Infatti compatibilità e standardizzazione è praticamente mondiale. Robustezza perché il codice per come nasce e per come è strutturato dal punto di vista hardware permette una interconnessione basata su un twisted page, quindi su una linea bilanciata praticamente esente da disturbi, quindi abbiamo una comunicazione costante. Possiamo arrivare, che per noi già è molto, arrivare col CAN standard a un megabit di comunicazione, quindi è già molto. La riduzione dei cablaggi perché fra tutte le varie board che abbiamo all'interno della macchina la possibilità di praticamente mandare dei segnali attraverso un doppino e una semplicissima 12V per alimentare le board ci permette di ridurre moltissimo i cablaggi e quindi ridurre i cablaggi vuol dire anche ridurre il peso e quindi ridurre anche i consumi. Priorità dei messaggi a un autodetection error che ci permette nel pacchetto completo di andare a monitorare gli errori e in autocorrezione con una giusta stringa di codici andarli a correggere automaticamente. L'efficienza della comunicazione, vabbè è chiara questa qua perché ovviamente tutte le parti, quindi dal motore agli inverter alle batterie alla presa di ricarica e alla ricarica di bordo avvengono attraverso il CAN, quindi è un unico protocollo e tutto questo avviene con una velocità molto elevata e in tempo reale. E l'affidabilità, come abbiamo detto, parliamo di nodi, se si dovesse interrompere la comunicazione su un nodo, essendo tutti in parallelo, non perdiamo l'intero sistema ma perdiamo solo una parte di quell'informazione. Adesso io qua ho voluto far rientrare nel discorso e nel tema dell'evento. Ho voluto insieme ai ragazzi fare una piccola simulazione, cioè vale a dire cosa una vettura solare, una vettura anzi una vettura normale, una vettura elettrica, possa avere come miglioramento efficientemente energetico utilizzando l'integrazione della conversione fotovoltaica. L'efficienza dei pannelli sostanzialmente in questo momento varia tra il 20 e il 25% su quelli al silicio commerciali e quindi noi abbiamo quattro dati sostanzialmente, potenza, superficie e tempo di esposizione in ora. Noi abbiamo fatto una simulazione di 10 ore con un fattore 1000 di potenza e questo ci permette di stabilire che in teoria due metri quadri di pannello su un'autovettura ci danno circa 4,4 kilowattore in 10 ore. Ovviamente questo è un dato teorico perché dobbiamo tenere conto dell'angolo di rotazione e infatti questo insomma è sostanzialmente, abbiamo fatto un piccolo paragone, questo è il consumo medio di una renozoe, quindi siamo 10 kilowattora per 100 chilometri e questo è con ovviamente la simulazione con i pannelli, noi otterremo praticamente circa 44 chilometri gratuiti, ma non è così. Noi abbiamo fatto un esempio, ci siamo andati appena su Google, su CalSol, abbiamo visto che questi sono gli angoli di incidenza a Palermo il 15 di agosto, quindi abbiamo integrato il sistema degli angoli all'interno di questa equazione e in realtà non abbiamo preso 4,4 chilometri, ma ne abbiamo presi 2,45. E' comunque sempre un fattore molto teorico perché poi entrano in gioco altre problematiche quale la temperatura dei pannelli, il calo di IDP, la corrente di fase, comunque sostanzialmente ci avviciniamo molto ai 2 kilowatt e 2. In funzione di questo vediamo appunto che su 100, quella e quella teorica, quella e quella pratica, sostanzialmente una vettura come la renozoe è in grado praticamente di avere un aiuto dal sole di circa 20-22 chilometri sopra 10 ore di irraggiamento solare. Ora, questo fa capire qual è il percorso che noi stiamo cercando di ottenere. Uno è quello di istruire questi ragazzi a una nuova mentalità e pensare in modo diverso e questo in un'azione molto critica rispetto a quello che è la progettualità oggi dell'automotive e fa capire che quindi il collo di bottiglia sono proprio l'efficienza delle celle. Questo è un grafico molto complesso, anzi molto confuso più che complesso, che fa vedere però, e per questo sono molto fiducioso, che dal 1975 dovevamo delle celle al silicio che avevano un rendimento appena dell'11%, siamo passati al 2020, esatto, vediamo se si vede in questo punto qua, esatto, noi adesso siamo praticamente con la singola celle al silicio al 27% di SunPower. Quindi la speranza è che questo index possa arrivare a un 40-50%, quindi non avere i nostri praticamente 200 watt, 250 watt al metro quadro, ma averne 500 al metro quadro. Questa tecnologia permetterebbe sicuramente di intregarsi in un'autovettura normale dove abbiamo fatto uno studio, per esempio, abbiamo preso la Renault Zoe che ha due metri quadri fra il tetto e il cofono anteriore, ma si potrebbero andare a creare dei design particolari come abbiamo fatto noi, adesso vi farò vedere, per avventare questa superficie. Ora è chiaro che da qua a vedere le auto solari in giro per strada passerà un pochino di tempo, perché sicuramente bisognerà spendere questa tecnologia soprattutto in avanti. Però questo secondo me, e secondo il principio per cui ho fondato l'associazione, è un modo per far ragionare gli studenti, farli ragionare in maniera differente, farli provare, fargli provare tecnologie nuove e metterli in contatto soprattutto con le aziende, aziende che per esempio ci hanno dato una grande mano dal punto di vista dei materiali, non solo, ma perché abbiamo utilizzato per primi quest'anno delle tecnologie date da un'azienda di Ascoli Piceno e non abbiamo utilizzato carboni, ma abbiamo utilizzato fibre di canapa in resine possidiche a basso contenuto chimico, abbiamo utilizzato magneti permanenti particolari dati da un'azienda cinese che ci ha dato questa nuova tecnologia di magneti con una nuova composizione a più alto rendimento. Il problema, il discorso è dare la possibilità agli studenti di conoscere tecnologie nuove, provarle, sperimentarle, sbagliare e magari correggere i loro errori. Perché dagli errori io credo che sia il succo di tutto e si cresca molto di più che fare le cose lavorando a compartimenti stagni e con i paraocchi. Questa è il... allora, appunto le conclusioni, molto velocemente, la nostra missione appunto è ispirare nuove generazioni perché saranno loro a prendere le decisioni per il futuro e quindi speriamo le prendano molto bene. Questa è Archimede 2.0, un po' più grande, quindi si vede la vettura completata in questi termini. Purtroppo l'avventura australiana è andata molto male perché per un grosso inconveniente la macchina non ce l'hanno consegnata al porto di Melbourne per uno sciopero, quindi siamo arrivati in ritardo alla presentazione e non ci hanno fatto partecipare dopo essere andati in Australia 30 persone con la macchina e tutto il resto. Ci hanno dato comunque molta visibilità perché ci hanno permesso anche di percorrere un po' di chilometri, insomma fare delle prove. Comunque è stata un'esperienza molto importante per i ragazzi, un'esperienza che vorremmo ripetere nel 2027, nel 2025 andremo a Zolder a fare i campionati europei e in questo momento il team che mi collabora, sono gli studenti insomma delle vecchie generazioni, col primo gennaio con l'anno nuovo si collegheranno appunto con l'istituto tecnico Enrico Fermi e daranno loro la possibilità di crescere insieme e lavorare su questa vettura. Questa è una foto del team e io vorrei un attimo se tu mi permetti far venire qua perché io sono il front end ma il vero motore sono loro. Io vorrei che Lorenza, Manuel e Federico venissero qua a prendersi l'applauso perché l'applauso è loro perché loro sono le persone insieme ovviamente a tanti altri che non sono qua che abbiamo sparpagliati in giro per l'Italia nelle varie università e loro sono il vero motore della nostra associazione, loro sono quelli che magari non si fanno l'uscita il sabato sera e stanno con noi a lavorare su cose un po' complesse o divertenti e ci arrabbiamo, litighiamo, facciamo di tutto ma la cosa importante è portare un po' di un progetto e io il mio desiderio, l'ho espresso a loro, lo dico qua a voi tutti, il mio problema è che questo progetto continui e che loro siano come dire gli eredi di questa attività che ho promosso io e voglio che la continuino, a meno è la mia speranza, che la continuino con i nuovi per le nuove generazioni che poi vogliono fare un'auto solare, che vogliono fare un aereo energia solare o un frullatore che vada col sole, questa ha poca importanza ma è importante che loro abbiano, la cosa più importante di tutte è lo spirito critico e il confrontarsi con gli errori, questa è la base dell'associazione e io ringrazio nuovamente per la possibilità che avete dato della visibilità, questi sono i nostri contatti, se avete domande o avete curiosità potete vederlo sul QR code, vi porterà al nostro sito e siamo a vostra completa disposizione per qualunque domanda C'è una domanda, è arrivata una domanda, ci chiedevano come funzionano queste competizioni di auto solari, ad esempio l'auto solare parte con la batteria carica, parte con la batteria Allora, no, dipende dalla competizione, parlo per esempio dell'European Solar Challenge l'European Solar Challenge è una 24 ore, si parte alle 12 dentro il circuito di Zolder in Belgio si completa la gara l'indomani alle 12, si parte con le batterie cariche e si ha la possibilità di due ricariche elettriche esclusive e ovviamente il computo totale dell'energia calcolata va al punteggio oltre i giri fatti, invece per quanto riguarda il World Solar Challenge è un po' differente si parte da Darwin, si arriva da Adelaide, sono 3000 km, si parte alle 8 del mattino e si ci ferma in qualunque luogo si arrivi alle 5 di pomeriggio non si può ricaricare assolutamente, tranne che la nostra categoria che sono i cruiser e comunque si ricarica su 3000 km solo due volte, esclusivamente e praticamente nella nostra categoria che sono i cruiser, cioè veicoli con più di un conducente e un passeggero, vince chi consuma meno energia per correre questi 3000 km nella categoria Challenger, che è una categoria veramente proibitiva perché parliamo che per investire un veicolo che sia, non dico competitivo ma che possa terminare la gara, ci sono università che investono oltre 600 mila euro parliamo di un veicolo di 5 metri che è compreso il pilota, pesa 160 kg e che va a 130 km orari, con 1200 watt di potenza e a quel punto la vince veramente chi arriva primo poi per esempio c'è l'American Solar Challenger che invece si fa cost to cost in 7 giorni è molto simile al World Solar Challenger vince chi consuma meno energia per correre più chilometri Un'altra domanda, all'inizio diceva che il vincolo posto da regolamento era quello di usare solo il silicio ma se questo vincolo venisse meno, che tecnologia avresti voluto utilizzare? Tellurio di Galli ovviamente, tripla aggiunzione Attualmente arriviamo a rendimenti anche del 38-40% Parliamo di celle che comunque vengono utilizzate normalmente nell'aerospace per le missioni spaziali, quindi parliamo anche di costi non abbordabili Qua parliamo di, orientativamente parliamo per la miglior produzione che noi riusciamo a ottenere a 25-30 euro a cella La parliamo di 3.000 dollari al centimetro quadro C'è un po' di differenza, ovviamente Anche se in realtà sono state utilizzate da altri team in maniera sperimentale ma alla fine il rendimento complessivo, essendo celle nate per lo spazio non è stato poi così evidente perché quando erano nel deserto australiano e si arriva a temperature di 45-50 gradi sul pannello a quel punto il rendimento per ovvi motivi scende in maniera drastica e quindi diventava nuovamente una cella al silicio Questo è il problema sostanzialmente Scusi, avete mai pensato di utilizzare l'intelligenza artificiale per percorsi, alternative modi per poter, diciamo, girare più veloci, meno veloci, tattiche? No, onestamente no No, onestamente no perché in questa fase cioè lo scopo della situazione è far ragionare la loro intelligenza che non è artificiale ma è quella umana per cui quello che mi piace di questa cosa è pure la loro umanità in questo momento ovviamente la utilizziamo ma per in ambiti di calcolo magari se dobbiamo generare un codice in C magari ci da una mano sicuramente su queste cose viene utilizzata oppure se dobbiamo andare a sviluppare un flusso di correnti di un gruppo di inverter la utilizziamo ovviamente a me piace raccontare una storia che è veramente particolare dove credo che l'umanità e poi devo dire anche l'inventiva umana e italiana abbia fatto un gioco importante nel 2018 eravamo a Zolder e per regolamento, anche perché dobbiamo rispettare dei regolamenti il pilota deve pesare 80 kg al di sotto ovviamente deve essere zavorrato al di sopra non è un problema ovviamente è una perdita di efficienza in tutto il sistema macchina ovviamente alla partenza avevamo già la macchina schierata sulla griglia di partenza ci accorgiamo che la zavorra non la dava più l'organizzazione ma dovevamo mettere noi il che vuol dire squalifica perché il nostro pilota era Giampaolo pesava 60 kg a quel punto ho detto facciamo una cosa parto io che peso 85 kg sono fuori va bene ma sicuramente non ci squalificano perché il pilota a Zolder viene cambiato ogni due ore e ho detto nel frattempo voi trovate una soluzione non c'erano loro c'era lui c'era lui trovate una soluzione in qualche modo dobbiamo fare ma non avevano una bilancia perché non c'era la bilancia e la pesa dove ci pesavamo con i piloti non ce l'hanno fatto utilizzare quindi il problema era pesare la zavorra esatta per le persone e per i piloti io dopo due giri rientro finisco il mio turno e vedo Giampaolo che arriva con due borse esatto e entra si mette sulla bilancia della federazione 80 kg perfetto va in macchina e riparte per la gara torno e ho detto ragazzi ma come avete fatto che non c'era perché io in radio ho sentito non c'è bilancia non c'è bilancia come facciamo dice guarda lo sponsor ci aveva dato 100 kg di pasta gli abbiamo dato 6 kg di maccheroni e 8 di spaghetti e così siamo arrivati al peso perfetto questo è quello che mi piace l'inventiva loro cioè loro hanno utilizzato la certezza del chilo di pasta per fare la zavorra perfetta per i piloti per cui noi abbiamo girato con maccheroni farfalle tutto quello che lo sponsor ci aveva dato ma la che fase cucinava? alla fine della gara l'abbiamo cucinato ovviamente ecco quindi questo è questo è futuro solare ecco futuro solare un'altra domanda che c'è stata posta è stata quali sono le criticità maggiori in un'auto solare qual è la criticità maggiore che può esserci in un veicolo di questo tipo di fronte a un potenziale guasto allora dal punto di vista meccanico è la è la la parte più critica perché bisogna mantenere questa vettura con masse complessive veramente basse e quindi tutti i componenti devono essere come dire tarati e realizzati quasi al limite di rottura per essere performanti ovviamente è normale che se facciamo una sospensione che pesa 30 kg non la rompiamo ma con 30 kg in più è sospensione non andiamo da nessuna parte per cui il lavoro più grosso è da parte degli ingegneri meccanici e dei ragazzi che fanno meccaniche appunto andare a calcolare le sospensioni i gruppi di attacco e tutto il resto per questo infatti ci aiuta moltissimo ci aiuta moltissimo le FEM che ci permettono quantomeno di simulare con buona approssimazione tutte le parti meccaniche ma comunque anche lavorando così alla fine poi si rompono ugualmente io ti dico una cosa eravamo quest'anno 52 al War Solar Challenger 10 non ci siamo nemmeno partiti ma le macchine arrivate al traguardo erano 22 perché c'è stata una seduzione fortissima noi parliamo di 3000 km in mezzo al deserto dove ci sono delle incredibili grid di metallo aperte 50 cm fanno dei sobbalzi incredibili vengono utilizzate per non far saltare i canguri e gli animali in mezzo alla strada e noi ci dobbiamo passare e il problema è che bisogna passarci là 80-90 km orari altrimenti finivi dentro il buco questa è la cosa quindi è una corsa nella corsa molte autovetture negli anni passati hanno avuto incendi hanno avuto problemi di vento laterale perché poi pesando 160 kg quando soffia il vento del deserto è serio arriva a 80-90 km orari una vettura del genere la spinge fuori è una è una bella avventura ecco è una bella avventura che prova sia i mezzi che le persone una domanda avete parlato di fibra di cap con resina epossidica ha più resistenza della fibra di carbonio? allora qua parla chi queste cose le ha studiate allora diciamo che noi abbiamo fatto un cioè non l'abbiamo fatto interamente di fibra di cannava abbiamo fatto una sorta di sandwich multistrato diciamo che ci ha permesso di eliminare buona parte degli strati di carbonio perché comunque noi abbiamo fatto tanti strati per renderlo strutturalmente più più resistente in ogni caso la diciamo le specifiche proprio della cannava che abbiamo utilizzato quindi il tipo di intreccio era comunque cioè aveva già delle delle buone proprietà possiamo dire fisiche e poi con l'aggiunta della resina comunque abbiamo testato ed effettivamente era molto resistente la parte della scocca della macchina quindi abbiamo ottenuto un buon risultato di fatto i costi in realtà non li conosciamo perché ripeto noi viviamo di sponsorizzazioni e tutto questo materiale è stato dato dalle aziende l'unica cosa che le aziende vogliono in cambio di noi è un piccolo nuovo noi gli facciamo ricerca e sviluppo e gli diamo poi del report sulle elettroniche sui materiali sì comunque il costo della canapa in questo momento è superiore purtroppo sì per un problema di lavorazione perché mi spiegavano che l'azienda che lo ma il confronto è con la fibra di carbonio sì esatto in questo momento purtroppo perché non c'è una grande tiratura a livello commerciale si sta spingendo un po' di più per questo tipo di materiali compositi perché hanno delle caratteristiche anche molto particolari nel senso che la canapa una volta incapsulata in un eventuale impatto non si scheggia ma rimane morbida quindi non c'è il rischio però siccome la quantità di prodotto in questo momento la produzione è molto bassa è quasi a livello non dico artigianale ma molto di nicchia infatti per capirci chi ce l'ha data è stata l'HP Compositi che è una delle aziende leader in Italia ma che comunque costruisce scocche per Dallara per Ferrari per Williams per queste grandi aziende e loro hanno sperimentato tutte queste parti soprattutto nei paraurti e nei musetti anteriori delle vetture di Formula 1 proprio per questo e quindi in questo momento diciamo che è un prodotto molto di nicchia certo il costo della canapa è molto basso in se stesso ma la lavorazione purtroppo è in questo momento non c'è una grande produzione quindi i costi sono elevati purtroppo quasi diciamo non elevati ma quasi quanto è il carbonio è stato detto se ho capito bene che il regolamento oppure un limite alla quantità di energia diciamo accumulabile nella batteria non sarebbe più sensato invece un limite al peso alle dimensioni guarda questa è un'interpretazione del regolamento che noi ovviamente prendiamo per fede perché è un regolamento che viene redatto dall'International Solar Car Federation dagli organizzatori in collaborazione con la FIA loro stabiliscono perché allora il discorso sì è corretto quello che dice lei ma sostanzialmente loro perché secondo il mio punto di vista limitano l'energia proprio per dare intanto tutto la possibilità a tutti di avere una tecnologia pari perché 55 kJ devi decidere la chimica che vuoi utilizzare perché la entra in gioco la densità energetica del singolo pacco batteria quindi se utilizziamo un litio-ioni abbiamo 250 watt chilogrammo se utilizziamo un litio-ferrofosfato ne abbiamo circa 200 watt se utilizziamo del sodio-ioni 160 ma se utilizziamo dei sodio del litio-ioni se credo che sia manganese che sono per capirci le celle che vengono utilizzate in Formula 1 arriviamo a 450 watt per per chilogrammo ma parliamo anche di celle che parliamo intorno ai 600 dollari a watt per cui sono celle che che nessuno si può permettere secondo me il parametro che utilizzano è corretto utilizzare limitare una vettura del genere in peso non è coerente perché come noi per esempio ci siamo rivolti ad aziende abbiamo fatto stampi stampi in carbonio tutto quello che è e ma c'è un'azienda che veramente arrivano là con delle macchine saldate con dei tubi di ferro e magari rivestite di vetroresina ecco cioè sempre un po' una gara dei Flintstone però e quella cosa bella secondo me è proprio questa perché c'è la macchina dei Flintstone ma c'è la macchina che è stata costruita che ha vinto che è stata costruita dal tubo di Eindhoven è stata costruita in collaborazione con Lockheed per cui parliamo di di tecnologia aerospaziale ed è normale che poi quella macchina vada a vincere e vada a 130 km orari e c'è un'introduzione e forse non sarà quest'anno sicuramente ma vogliono metterla nel 2027 per quello che vorrebbero mettere un budget cap per livellare un pochino tutta sarebbe anche più corretta tra parentesi l'unità gli unici in Italia premetto siamo noi l'università di Bologna poi finito l'università di Bologna ha una macchina che anzi loro in realtà ne hanno già costruite 10 di autovetture che si chiama Onda Solare ma siamo gli unici due in Italia quando in Turchia ci sono 14 team quando in Grecia ce ne sono 4 quando negli Stati Uniti ci sono 28 team e non dimentichiamoci che è uno dei due team italiani e non è una realtà siciliana assolutamente adesso su questo ne andiamo orgogliosi grazie ringraziamo Di Bella grazie grazie veramente grazie al vostro team complimenti